La Serie A2 è appesa a un muro con una bella cornice. Il Volta ricomincia dalla B2. C'è chi a causa della crisi ha dovuto chiudere bottega e chi, usando parsimonia e fair play finanziario, sopravvive con le forze a disposizione. In collina hanno scelto quest'ultima strada. Il main sponsor c'è e linea a saldatura. Ed ecco le 11 giocatrici che avranno il compito di riportare l'entusiasmo al Palavalle. Quattro di loro sono state promosse dalla D, una scommessa giovane. Oggi comincia l'avventura in B2. La faremo con la stessa volontà, con la stessa voglia di vincere, con lo stesso impegno personale mio e di tutta la società. E cercheremo ovviamente di fare al meglio perché siamo qui per fare attività sportiva e per cercare ovviamente di fare risultati. Quelli che riusciremo a fare in base all'organico che abbiamo messo in campo e a quello che, ripeto, in questo momento la società ha fatto. Staff tecnico tutto mantovano con Andrea Fasani, primo allenatore. Il team di Serie D sarà di nuovo affidato a Davide Malavasi. I due collaboreranno per il settore giovanile. Appena volto a Mantovano ha fatto una proposta in questo senso, mi è subito balzata l'idea di accettare la proposta. Perché comunque è una certa seria, solida, in cui ho lavorato tre anni e mi sono trotto benissimo. È stata una buonissima esperienza. Nella Rosa, oltre alla Voltese Federica Stefanoni, c'è un altro gradito ritorno. Betty Fabro aveva detto stop, ma nel volley e nella vita mai dire mai. Non avevo nei progetti di riprendere a giocare, però conoscendo le persone, Zini, prima di tutto Sergio Longhi, ho detto va bene, proviamo a fare un altro anno. So che la società è una buona società, quindi di quello andavo sul sicuro. proviamo a fare questa nuova sfida, sarò la più anziana, è la prima volta che lo dico. E quindi insomma tutta una nuova avventura.